Stai constatando la difficoltà della gara? Sì, molto di prestigio. Loro sapevamo che era una squadra molto forte e per me si è stati molto bravi dopo loro per crederci e per volare. Come hai vissuto questa gara dal punto di vista personale? Personale, devo dire, sono entrato poco però anche il gol è stato un'emersione molto forte per me. È stata una liberazione che hai visto che hai scatenato. Sì, sì. E gli obiettivi della stagione? Ovviamente quello di fare un po' di minutaggio. Sì, sì, fare minutaggio e anche presenze magari e non si sa mai anche il gol. E magari invitare Belotti che è entrato nel giro della Nazionale Giovanile. Certo, certo. E la penalizzazione? Non vedete l'ora di toglierla? Sì, sì, meglio allora anche se speriamo di togliercela il prima possibile. E in attacco ti trovi bene con i tuoi compagni? Sì, sì, molto molto. Con Belotti ha giocato appunto anche l'anno scorso con lui e mi sono trovato molto bene con lui. e tu rovi.